Nicoletta Veri, grande soddisfazione per l'approvazione della legge sulla ludopatia, un fenomeno che sta coinvolgendo una fascia sempre più ampia di popolazione. Sì, è una legge importante per la nostra regione, siamo tra i primi in tutta la nostra nazione. È una legge che va a regolamentare quelle che sono le future norme per aprire dei centri, dei luoghi dove si può svolgere questo gioco. Lo regolamentiamo come? Attraverso un'autorizzazione che deve essere dato dal comune, ma soprattutto tenendo conto quello che sono le distanze dai luoghi sensibili. Una distanza di minimo 300 metri e per luoghi sensibili si intendono tutti quei luoghi di aggregazione, sia sociale, sia scolastica, universitaria. Quindi un'attenzione che noi mettiamo in maniera epocale e fondamentale per risolvere questa piaga sociale, un'attenzione quindi per la tutela della salute dei cittadini. L'attenzione quindi a una fascia del sociale che non deve essere penalizzata adesso dall'imminente bilancio? Ma un'attenzione al sociale perché le esigenze del sociale sono tante le più variegate. Anche se spesso abbiamo dei tagli a livello nazionale, devo dire che la regione con difficoltà, ma attraverso ostacoli siamo riusciti anche a superare momenti importanti, a trovare i fondi per quelle che sono determinate priorità. Questa legge non ha un dispendio di fondi, non ha bisogno di economia, quindi non c'è un capitolo del bilancio. Quindi ci vogliamo distinguere in questo, sia come attenzione, ma soprattutto come volontà da parte della regione, di portare avanti obiettivi importanti per i nostri cittadini. Parlando invece di politica, cambia lo scenario di riferimento per scelta civica? Si va verso una nuova area dei moderati? È un'area importante quella che si sta costruendo, un'area in cui ci sarà una grande rappresentatività di tutte le persone che sono a contatto del territorio, quindi non solo una rappresentanza di coloro che vengono nominati o scelti, ma attraverso un radicamento importante per progetti importanti come le riforme e contenuti liberali. L'ultima, dopo l'approvazione della legge sulla ludopatia, qual è il prossimo obiettivo da portare, da centrare in Consiglio regionale per Nicoletta Verì? Ma come Presidente di Commissione abbiamo diverse importanti leggi, tipo la tutela sulla legge sul randaggismo, che ormai è all'esame del Consiglio, altre leggi importanti sulle norme della funeraria, altre leggi importanti proprio a livello del sociale, ma soprattutto una mia proposta, insieme anche a tutti gli altri colleghi, sul portare avanti proposte di leggi fondamentali a ricoprire quella che è stata purtroppo una penalizzazione dai tagli della sanità, ossia tutti quei sussidi, tutte quelle possibilità di avere incentivi, retribuzioni economiche nei casi in cui i pazienti erano sottoposti, tipo i pazienti di malati oncologici, i malati idealizzati, che prima avevano la possibilità di usufruire di un sussidio per quello che riguarda il trasporto e tutto ciò che è pertinente alla patologia, che abbiamo dovuto abrogare come Regione Appruzzo perché non rientravano nei LEA, nei livelli di assistenza. Oggi c'è una volontà ben determinata invece di riportare questi contributi attraverso una legge regionale.